Grazie a tutti. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, nel caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere offerta mediante la denuncia o guerrilla presentata contro i gnoti alle competenti autorità, ma senza automatismi. Ritenere che la denuncia mancante dell'indicazione dei testi comporti di per sé il rigetto della domanda significerebbe introdurre una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, creando un'ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge. Ciò comporta anche che non è consentito per venire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse che finisca con il trasformare in un investigatore privato o necessariamente in un querelante.